I nuovi e possibili scenari che si prospettano in ambito economico e fiscale dopo l'insediamento del governo tecnico aprono necessarie linee di dibattito sul tema della riforma del sistema assistenziale e pensionistico. La CISL e la Federazione dei pensionati CISL di Macerata hanno organizzato in merito l'incontro pubblico sul tema il nuovo welfare sostenibile, equo e motore di sviluppo presso il Teatro Velluti di Corridonia in occasione dell'inaugurazione della nuova sede CISL cittadina. La spesa sociale non è una spesa ma è un investimento sul sociale. Noi stiamo parlando quando ci riferiamo allo stato sociale, agli asili nidi, alle case di riposo, all'assegno di accompagnamento, a tutte quelle vulnerabilità che stanno crescendo di fronte a una crisi così drammatica, stanno crescendo questo bisogno di aiuto e quindi bisogna investire su questo settore. Il disegno di legge sulla riforma del sistema pensionistico avanzato dal governo Berlusconi prevede un recupero di 20 miliardi da effettuare entro il 2014 proprio nel settore dell'assistenza sociale. Una manovra restrittiva che purtroppo guarda al welfare e alle sue implicazioni sociosanitarie più come mera voce di spesa che non come vera opportunità di sviluppo per il territorio. Speriamo che con questo governo tecnico in prospettiva si inizi questo tipo di partita che quindi non è semplicemente chiedere il sacrificio o far finta che i sacrifici non ci debbano essere ma anche avere un'idea chiara di dover investire una parte anche limitata delle risorse che stiamo risparmiando per ridare slancio all'economia tramite il welfare.